120 progettisti dall'Italia dall'estero, molti dei quali giovani, che portano qui al Palazzo Baronale di Martano le loro opere e le loro idee. Opere che verranno giudicate nelle due categorie Living e Garden e, una volta premiate, successivamente verranno esposte anche al Made Expo di Milano, Fiera Internazionale delle Delizie. Ho trovato questa opportunità di partecipare alla Gorà Design molto interessante perché ho visto che è un evento in cui partecipano tantissimi colleghi, non solo dell'Italia, ma anche di altri paesi e mi è sembrata una bella opportunità per mettermi in confronto con altri colleghi.